Buonasera, naturalmente ben trovate e trovati, che ci accompagnerà lungo queste serate. Quest'anno abbiamo fatto una scelta verticale, plurale femminile, soltanto registe donne, e la prima regista donna è Michela Ramazzotti, che stamattina si è svegliata con 40 di febbre e senza voce. Per cui questo festival parte come lo Zoccolanna, in salita così, almeno per noi che siamo qua. Purtroppo sono cose che capitano, siamo tutti umani, Bobbio negli ultimi 27 anni abbiamo portato qua tutto il cinema italiano almeno tre volte, e questa volta non ci siamo riusciti. Abbiamo provato in ogni modo a cercare un sostituto, ma essendo anche il 27 di luglio non è stato possibile. Michela ha scritto una cosa che io ho, mi tieni un attimo, che io ho qua nel telefono, potrei farvi leggere tutti, che non è Michela, ma è Michela, ecco qua. E vi leggo, buonasera Bobbio, ciao a tutti, so che siete venuti qui stasera ad aspettarvi, ma soprattutto a vedere felicità. Dovevo esserci con immensa felicità, ma purtroppo ho avuto un imprevisto, lei scrive imprevisto, ma poi io ci ho parlato e proprio non sono riuscito a parlarci perché non la sentivo al telefono proprio, e poi ci siamo scritti durante il giorno. Mi dispiace molto perché venire qui a promuovere il film sarebbe stata per me una cosa fantastica. Questo film lo amo, l'ho seguito con passione ovunque e l'ho sempre accompagnato con la passione di una bambina. Vorrei ringraziare la famiglia Bagliocchio, vorrei ringraziare Magrelli, vorrei ringraziare Marco Bellocchio, il grande maestro del cinema italiano che ci dà e ci continua a dare un appuntamento nelle sale cinematografiche per ammirare i suoi capolavori con cui sono cresciuta, riflettendo sulla natura umana, cosa che il maestro esplora sempre e ci regala occhi sempre nuovi. Grazie, perdonate la mia assenza e spero tanto che il film vi piaccia. È dolcemente doloroso, felicità è stato per me non solo un film, ma un grande percorso personale. Racconta il disagio mentale, cosa di cui si parla poco o quasi mai, perché fa paura, i matti fanno paura, i matti si curano. Quelli che si credono sani sono fuori, non si curano e sono pericolosi. Felicità è la pace nel nostro cuore. Buona visione a tutti e un grande abbraccio. A questo punto Enrico, comunque alla fine della proiezione, per chi volesse confrontarsi con qualche domanda, con qualche curiosità, si presterà? Sì, molto volentieri, naturalmente le domande saranno, forse qualcuno di voi ricorda i vecchi cineforum, non l'abbiamo mai fatto a Bobbi, almeno io, non credo questo sia il diciottesimo anno che vengo qui, e quindi è un esperimento. Non siete costretti a rimanere, il film che, come lo definisce poi Michele, è interessante, dolorosamente, e poi uso un aggettivo molto più morbido, è un film anche carico di speranza, quindi non vi sto svelando più di tanto. Il film ha vinto il premio del pubblico Orizzonti nella scorsa edizione del Festival di Venezia? Sì, perché è stato presentato lì, a Orizzonti Extra, e la cosa divertente è quando ha avuto questo premio, Michele ha detto, avevo da, credo da giugno, chissà come era ridotto il vestito, in valigia, proprio come scaramanticamente, e poi ha incontrato anche un discreto, a favore del pubblico. Sì, è un film che è andato in una stagione per il bottichino, per il cinema italiano, molto faticoso, tranne qualche eccezione, un film che si è difeso, che si è distinto. Poi è molto interessante perché lei ha lavorato insieme a degli attori, li riconoscerete davvero tutti, e poi vi racconterò delle cose dopo, come li ha scelti o non li ha scelti. Vedete il film, godetevi il film, che è veramente un bel film, dopo, anche se rimaniamo in 50 o in 20, possiamo chiacchierare molto volentieri. Non fate domande troppo specifiche perché non è Michele, non l'ho scritto, non l'ho diretto, siamo un po' diversi in realtà. Io volevo cogliere l'occasione, perché poi i ringraziamenti si fanno spesso alla fine, ma intanto ne volevo fare qualcuno all'inizio e volevo ringraziare comunque il comune di Bobbio, il sindaco Roberto Pasquali che è qua con noi, che come sempre collabora insieme a Paola Pedrazzini, che è qui con noi per realizzare questa manifestazione, che vi assicuro quest'anno è stato più complicato del solito, molti festival piccoli in Italia quest'anno non hanno preso vita, non sono partiti, perché comunque il blocco dei finanziamenti del Ministero è stato qualcosa di drammatico per tante realtà, e Paola insieme a Pasquali e insieme a tutti coloro che partecipano alla Fondazione di Piacenza e Vigenza, a tutti coloro che partecipano a tenere in piedi questa manifestazione piccola, ma molto importante, li volevo ringraziare, e poi state tranquilli che a metà della settimana prossima arriva anche il padrone, arriverà anche il signor Marco Bellocchio a accompagnarci per le ultime quattro serate di questo festival. Sta preparando la sua serie e quindi in questo momento non ce l'ha fatta, però vi manda un grande saluto. A questo punto diciamo... Buona visione si dice? A dopo! A dopo! A dopo! Visto appunto che non l'abbiamo mai fatto, pur avendo qualche esperienza nel trapassato remoto di dibattiti e di cineforum, credo che questo film offra... Ah, c'è anche un cagnolino! Offra tanti possibili spunti, credo almeno, immagino, se poi non vi è piaciuto e siete rimasti è ancora più interessante come cosa, no? Quindi non c'è la regista, non c'è la protagonista e giuro, giuriamo, che non riferiremo nulla e tutto quello che viene detto contro il film, se c'è qualcosa che nel film vi ha disturbato o non vi ha convinto. credo che una... dico soltanto due o tre cose che avete sicuramente già notato vedendo il film, è che il personaggio interpretato dalla Ramazzotti è una figura femminile che abbiamo già visto altre volte interpretata sempre dalla stessa Ramazzotti, quella che lei definisce le figure femminili storte, che è un aggettivo suo, ripetuto in più occasioni, abbiamo avuto spesso, dopo Venezia, di fare degli incontri pubblici con lei, anche con Max Tortora, con l'Anna Galiena e Matteo Olivetti, e poi una volta anche con Rubini, che interpreta un ruolo sicuramente molto impegnativo e anche molto sgradevole, se vogliamo, tanto che, questo lo ripeto perché sono parole sue, diciamolo chiaramente, il mio personaggio è un vero stronzo, e poi abbiamo ragionato sulla difficoltà per un attore di dare credibilità, forza a un personaggio che incarni e viva sistematicamente sulla propria pelle tutta una serie di pregiudizi, per cui sei legato a una donna, sei una sorta di intellettuale, e questo spesso anche in alcuni film francesi, ci sono almeno due o tre esempi di film francesi in cui lo studioso di filosofia parigina va a fare delle ricerche in provincia, incontra una volta una cassiera, una volta una parrucchiera, nasce lo stesso un sentimento d'amore e poi però scattano tutti quei banali pregiudizi che ci portiamo dentro. Quindi la prima questione è appunto un'altra figura femminile storta, qui il suo essere storta nasce da come viene usata, tra virgolette, nel contesto di lavoro, di come poi viene usata anche dal suo compagno, se volete, in cui poi l'elemento sessuale è chi meglio di una donna che vive, immagino, sulla propria pelle, non sto parlando della Ramazzotti ovviamente, questo tipo di pressione che è una pressione sociale, culturale e non solo. Dall'altra poi c'è la descrizione di una famiglia, anche lì, detestabile, però affidata a due attori, come Max Tortora, Max Tortora lo conoscete, è una persona umanamente deliziosa, è un comico, potremmo definirlo così, e questo suo essere un padre gaglioffo, prevaricatore, ladro anche, perché a un certo punto, anzi, a meno in un paio di occasioni, proprio truffa la figlia, e dall'altro una madre così protettiva da sconfinare il suo senso di protezione in qualcosa di indefinibile, che non viene né definito, né immaginato, né supposto dal film, e in una realtà di periferia romana, lì siamo, quella parte del film è stata già tra Ostia e Fiumicino, in cui non è la classica famiglia disfunzionale del sottoproletariato da una parte o di un certo tipo di borghesia, no? Michela e le sue scrittrici hanno scelto una via di mezzo socialmente, non solo socialmente, e poi c'è questo ragazzo, interpretato secondo me molto bene da Matteo Olivetti, che in altri film è un pericoloso piccolo gangster di provincia, non solo, ha fatto anche tanti altri ruoli naturalmente, nell'ultimo film, che forse arriverà in sala, che si chiama Le tre regole infallibili, fa la parte di un giardiniere che si innamora di una donna sposata, è uno degli ultimi film di re, prodotto da Gabriele, ah sì, Gabriele se mi sei, da Divaio, che è morto per un incidente così di moto un po' di tempo fa, non mi metti il suo nome in questo momento, va bello, Gaetano, ecco, che sa perché l'ho chiamato Gabriele, perdonami se mi ascolti, è anche una persona, era una persona veramente carissima, e quindi fa un ruolo totalmente diverso, diceva appunto, si innamora di una donna, che ha un figlio, da un uomo che non c'è più, e questo figlio boccia, anche questo è uno schema abbastanza ricorrente, e Matteo nel fare il ragazzo smarrito totalmente, colpa della famiglia, non abbastanza grinta, tra poco sto zitto perché voglio dialogare con voi naturalmente, la cosa che il film personalmente lo apprezzo molto, forse si capisce anche di quello che sto dicendo, è la delicatezza, senza giudicare, con cui vengono descritti tutti i personaggi, anche questo papà che si direbbe fallito con delle ambizioni nel mondo dello spettacolo, c'è il momento in cui va sul set e incontra un vero regista, Giovanni Veronesi, e lo sfottono, lo provocano, come accadeva in film ancora in bianco e nero, in cui c'era Tognazio ormai, passato verso la fine della propria carriera, e gli fanno fare la locomotiva in una festa e lo prendono in giro e diventa uno zimbello vero e proprio, a conferma di come il mondo dello spettacolo non è quello che ci racconta la televisione, dei talent o di non so bene che cosa, o delle isole piene di tentazioni, io non l'ho mai visto, ma adesso la guarderò questo programma, The Temptation Island, che sembra un punto di riferimento per la nostra cultura contemporanea, e poi ho paura che però poi provochi una sensazione di rigetto antropomorfico, antropologico, anche se poi ognuno è libero di fare quello che gli pare, però il mondo dello spettacolo somiglia a questo basso profilo, a questa volgarità, che poi vediamo nel film. Questi sono soltanto alcuni dei tanti elementi, però è interessante sentire le vostre sensazioni, poi anche se ci sono delle domande, probabilmente non saprò rispondere, fingerò di avere una risposta, oppure magari ho una risposta e la condivido con voi molto volentieri, e quindi vediamo, proviamo a fare questa sorta di dibattito, se ci sente Nanni Moretti il dibattito no, però ci vorrà bene lo stesso, insomma, anche perché so che ci segue a distanza di quello che facciamo. Io ora sto zitto, quindi come sempre c'è l'inizio, sì prego, molto, guarda, credo ci sia un microfono qui in prima fila, adesso arriva. Grazie, ma su Sergio Rubini, sì, sembra un po' uno stronzo, però... L'ha detto lui, ripeto, ma... Sì, sì, però visto il film mi sentirei invece, forse provocatoriamente, di difenderlo, anche perché Sergio Rubini è il protagonista della scena politicamente più forte del film, quando a un certo punto dà fuori dai gangheri con questo padre delinquente e inizia a dirgli la vostra generazione ci ha fottuto, cioè noi siamo i giovani che poi giovani che siamo qui e vi paghiamo le vostre pensioni di validità rubate, cioè ha una reazione, cioè poi per carità nel film, certo si comporta probabilmente non bene, però è un uomo che è vessato dalla società, dalla coppia, poi magari trova delle reazioni magari sbagliate, però questo è un punto che mi ha colpito, poi magari nel film non è sviluppato, perché poi dopo... cioè i veri nemici non compaiono in questo film, cioè insomma sono questi disgraziati, non saranno di sottoproletari, ma insomma sono dei delinquenti da strabazzo, però questo invece mi ha dato un'emozione... un po' si riscatta, dici tu, giustamente, no? Sì, in realtà non voleva mai incontrare i genitori, il problema è credo che poi Sergio ha dato sbrigativamente questa valutazione del suo personaggio, perché poi non ha nessun tipo di vera complicità nei confronti suoi. È chiaro, la invita con dei colleghi e sa bene che se beve un po' troppo non ha, come dire, quel minimo di attrezzatura per conversare anche superficialmente, però è molto attratto da lei, questo è abbastanza evidente, quindi, come dire, non è che la puoi vivere la storia d'amore solo quando ti fa comodo, in casa, non vedendo nessuno, oppure camminando sempre un po' più avanti, quando stanno per strada quasi a vergognarsi, quindi hai ragione, cerca di avvertirla, di dire, guarda, questa famiglia ti distrugge, ti distruggerà, ti sta distruggendo, però lo sappiamo nella nostra vita, credo, pur non vivendo, per fortuna, un'esperienza come quello, che se una persona è in difficoltà ed è in balia da anni di un meccanismo affettivo, psicologico, familiare di un certo tipo, non è che uno arriva dall'esterno e magicamente risveglia o riesce, perché lei sta facendo un percorso, cioè è un percorso verso una liberazione sua e del fratello da una famiglia che col quale ha convissuto e dal quale viene vessata più o meno consapevolmente, perché poi questi due genitori sono un po' strani, anche questo papà che però fa simpatia, nonostante sia una canaglia spudorata, fa in qualche modo tenerezza, è un poveretto, un poveretto che non ce l'ha fatta, che si ostina e che fa valere il proprio potere, visto che è una persona completamente realizzata, sui figli, e questo fa abbastanza impressione, credo, non in quella forma naturalmente, perché poi i film sono delle semplificazioni e delle esagerazioni, su qualcosa che forse è molto più diffuso di quanto possiamo pensare. Sì, no, quel momento è importante, è un momento in cui viene fuori l'anima battagliera, per così dire, però poi non è altrettanto battagliero nel difendere la sua compagna, tanto che poi ne sceglie un'altra e quella scena è molto triste, è molto malinconica, in cui tu verifichi una bugia e capisci che in quel mondo è come se ti dicesse tu devi stare nel tuo mondo con tutti i tuoi guai e non sarò io ad aiutarti, forse aiutarti poi è un verbo un po' impegnativo ad accompagnarti in un altro mondo. Chi altro ha voglia di dire qualcosa sul film? No, non sarebbe male sentire anche qualcuno a cui non è piaciuto il film, lo dico non in modo provocatorio, insomma. Oppure posso provare a chiedervi quale scena vi ha più colpito, vi ha più commosso, agitato, o vi è sembrata emotivamente forte? Sì, adesso c'è laggiù, sta arrivando il microfono. No, la cosa che mi ha colpito di più e che mi è piaciuto di più in tutto il film è stato vedere questa donna che alla fine si era creata una sua dimensione, era indipendente pur dipendendo dall'amore di questo personaggio che era diversissimo da lei, che la teneva lontano dalla sua famiglia e in qualche modo la difesa perché comunque lei aveva trovato la sua seconda dimensione assieme a questo personaggio che poi la delusa perché ha scelto un'altra strada però in definitiva chiedeva solo qualcosa a lui quando doveva costruire con lui la sua vita ma per i problemi di casa sua non gli ha mai chiesto niente suo fratello l'ha curato con i suoi soldi lei da quando ha cominciato a lavorare ha messo via i suoi soldi questo mi ha dato speranza mi ha dato speranza perché spero che sia stato qualcosa di studiato magari dalla regista così per capire che in certe realtà qualcuno si sta costruendo un'alternativa e l'indipendenza finanziaria in alcuni casi sia che sia la donna o l'uomo che se la costruisce può aiutarti a difenderti da certe difficoltà che sono nate con te nella tua famiglia e mi è piaciuto mi è piaciuto il fatto che lei ha portato suo fratello certo ci ha messo del suo erano i suoi soldi ma erano i suoi soldi non è dovuta dipendere né dalla sua famiglia disgraziata né tanto meno dal suo compagno e questo è stata forse la cosa più bella di tutto il film che poi non vorrei interromperla finito no no finito basta no no ma quello quello che dice è giustissimo e credo che la Ramazzotti sarebbe molto felice di questo intervento no proprio perché vediamo come quello che si dice l'autodeterminazione di una persona in questo caso di una donna può capitare anche agli uomini però la fatica più grossa lo sappiamo benissimo riguarda ancora le donne non è un percorso semplice non è necessariamente un percorso ad ostacoli in cui come diceva giustamente l'autonomia economica e quindi avere un proprio lavoro non dipendere dagli altri è fondamentale per trovare la propria la propria libertà e la propria trasformazione non a caso quando il film era in lavorazione prima che arrivasse a Venezia la Ramazzotti ha detto il film non è autobiografico anche se io conosco quel tipo di mondo in cui in cui vivono i genitori del film però corrisponde a un momento di mia grande trasformazione personale extra cinematografica in cui a un certo punto mi sono resa conto che alcune cose che tenevo dentro di me dovevano dovevano uscire dovevano esprimersi e lo stesso accade a Desiree la parrucchiera del cinema in cui vuole affrancarsi e affrancare se stessa e affrancare il il fratello dal da quella famiglia che è una famiglia adesso si usa molto l'aggettivo tossico no? è oggettivamente tossica perché come tutte le situazioni tossiche indeboliscono in questo caso i più deboli figli che comunque dipendono in un modo o nell'altro dal giudizio non più dal sostentamento perché poi il fratello non non lavora quindi sottrarsi a tutto questo potersene liberare finalmente infatti l'inquadratura finale quando parte il fratello e lei rimane alla stazione è un buon modo per poter immaginare come spettatori che poi partirà idealmente anche lei insomma anche se non vive più in casa anche se poi avranno bisogno di prestiti forse i genitori non gli darà più nulla anche perché sono belli grandi vaccinati se la devono vedere da soli non possono vivere addosso sfruttando tutte le energie e depotenziando umanamente il figlio e la figlia e questo credo sia non tanto il messaggio si sarebbe detto un tempo però viene descritto un percorso che è anche la ricerca di una felicità non una felicità astratta o da canzonetta no quella di poter essere se stessi quindi di poter fare gli errori da soli o avere dei successi o delle conquiste da soli io non vedo altre braccia alzate da qui però forse ci sono eh sì adesso la vedo chiedo scusa sì buonasera ho un pensiero un po' confuso anzi ma approfitterei per esprimerlo e per cercare anche magari col vostro aiuto di chiarirmi un po' le idee tanto mi ha impressionato molto nel bene e nel male allora dico quello che mi sento ma se a un certo punto vado fuori strada fermatemi buttatemi via va benissimo allora si tratta di questo la felicità sì il titolo la felicità che uno cerca per per emanciparsi per salvarsi come i due fratelli e anche la felicità che probabilmente anche la famiglia tortora e galiena hanno cercato nella loro gioventù e quindi c'è una felicità di persone che soffrono e quello che mi ha turbato molto è pensare che probabilmente la felicità dei loro genitori tutte e due stronzi mica male ecco la ricerca della felicità che tortora e la moglie hanno cercato di trovare nella loro vita e non hanno poi trovato o hanno trovato nella forma residuale che c'è nello spettacolo però ha causato l'infelicità dei propri figli e allora pensando alla dimensione familiare mi è sembrato quasi veramente un po' angosciante anche come genito genitore vabbè ormai su con l'età però siccome lo sono e lo sono stato è il rischio altissimo che c'è di creare infelicità cercando di fatto la propria felicità di vite comunque infelici immagino che tortora la moglie non siano persone realizzate però avevano dei sogni volevano raggiungere una certa felicità magari negli scampoli di tempo della loro vita obbligata al lavoro alle cose che si devono fare per vivere o alle strade che hanno intrapreso magari anche fallendo c'era una ricerca di felicità ma questo ha chiuso i loro occhi sulla felicità dei propri figli quindi non si sono accorti neanche loro di niente i figli andavano al mare una veniva non dico violentata però comunque subiva violenze fisiche psicologiche il figlio aveva i suoi problemi ma loro non hanno visto niente perché uno probabilmente pensava al suo spettacolo e l'altra pensava comunque a quel tipo di mondo non demonizzo lo spettacolo ognuno cerca la sua felicità negli scampoli di tempo che ha nella propria vita e quindi a me ha fatto impressione ho detto cavolo ma quanti infelici creiamo facendo è bene che li facciamo però dico facendo figli ma senza accorgerci magari che la nostra felicità le nostre paure una madre così così apprensiva così cioè rovina i figli ma li rovina per troppo amore no e niente questo mi ha questo aspetto poi il bisogno di felicità del ragazzo e della protagonista è quello per me abbastanza chiaro è chiaro che c'è bisogno e avranno la loro felicità probabilmente nonostante tutto quello che hanno provato uno partendo col treno e la sorella prima o poi troverà una dimensione Rubini mi ha sembrato quasi inqualificabile ma anche lui sta dentro in questo gioco cioè tanta intelligenza tanta sensibilità tanto non essere di destra ma essere di sinistra ma essere altrettanto cieco ma poi di fatto comunque un bisogno di sua felicità non della felicità della persona con cui sta certo non riesci a costruirla però alla fine preferisci la tua e per far vincere la tua anche miseramente però fai del male agli altri e far male ai propri figli far male ai propri compagni far male insomma è un filmaccio proprio una roba brutta non so se poi il regista aveva queste intenzioni e queste intenzioni però io le ho sentite anche così no no certo forse sì perché poi sicuramente l'idea di felicità è un'idea profondamente soggettiva per ognuno di noi da parte dei genitori può essere forse loro si sentono felici a modo loro non rendendosi conto di vampirizzare da anni i figli di sfruttarli e non rendendosi conto cosa che accade ai genitori di riconoscere il disagio dei figli e questo purtroppo come sappiamo è diffusissimo per cui uno nega mio figlio mia figlia figurati non hanno non hanno problemi stanno benissimo invece di dire forse c'è qualche piccolo problema cerchiamo di intervenire quando non sia non sia troppo tardi e la felicità non solo è soggettiva ma spesso è qualcosa di profondamente egoistico e il personaggio di Rubini lo dimostra nel modo più evidente c'è egoismo anche da parte di Tortora e della Galiena evidentemente oppure c'è quella sorta di infelicità dei genitori visto che stiamo parlando di questo universo narrativo che delega una immaginaria felicità ai propri figli per cui io non ho fatto alcune cose e quindi mi auguro delego mio figlio mia figlia a poterle realizzare a poter ottenere non credo sia il caso di questo film perché loro in realtà negano la vita agli altri perché nel momento in cui poi incastri una figlia che guadagna guadagna più del papà in modo abbastanza stabile gli fai firmare un contratto capestro per un lavoro che il figlio poi non potrà sostenere e quindi c'è appunto questa percezione come dicevo egoistica molto autoriferita molto personale della felicità se adesso provassi io per primo e poi provassi a chiedere a voi che cos'è la felicità a parte le scemenze che ognuno di noi scrive o legge sui social la felicità non so bene che la tazza di cioccolata adesso devo dare stupidaggini totali però è un oggetto è un oggetto emotivamente molto complicato forse è anche un'invenzione dell'essere dell'essere umano perché poi sappiamo per esperienza personale credo che poi la la beatitudine di felicità ha sempre una durata limitata no? non è per sempre che è un'invenzione degli esseri umani no? per cui un amore è per sempre un amico è per sempre un lavoro è per sempre quel posto è per sempre e poi ci rendiamo conto man mano che diventiamo più grandi che quel per sempre è meraviglioso ci accompagna ci fa tenere così no? ci tiene in sicurezza ma non è assolutamente vera probabilmente in tutto questo ma lì non è insomma non sono assolutamente esperto ha a che fare poi con l'intelligenza emotiva delle persone no? che non ha nulla a che fare con l'altro tipo di intelligenza diciamo quella razionale per fare una semplificazione penosa di cui mi imbarazzo ma la faccio per darvi un'idea naturalmente comunque sì è un filmaccio da quel punto di vista perché perché credo che colga nel vivo delle questioni con le quali forse anche la regista e le due sceneggiatrici hanno fatti conti non necessariamente come esperienza diretta no? che nel momento in cui uno racconta una storia mette sulla pagina o sullo schermo cose che percepisce che intuisce che sente che vede che legge a leggere le pagine dei quotidiani le pagine di cronaca ci rendiamo conto come il fantasma della felicità a quella che poi in un film meraviglioso Buñuel era il fantasma della libertà e credo che il fantasma della felicità sia uno dei fantasmi dominanti di questa stagione della storia dell'umanità non so quanto durerà però però mi pare che abbia un suo grande potere sì prego qui in prima fila adesso arriva no forse c'è prima qualcuno dietro e poi qui in prima fila sì la sentiamo prego ok no io volevo dire un parere un po' contrastato rispetto a quello che è stato detto prima sì anche io ho trovato la pellicola un po' frustrante perché noi seguiamo Desiree in questo viaggio costellato di personaggi negativi persino Bruno che all'inizio ci sembra quella figura relativamente di consolazione la uccide e la manipola anzi non l'aiuta per niente la conduce verso una desolazione però prima si parlava di speranza cioè il film che doveva accendere questa speranza questa fatidica speranza io sinceramente non l'ho trovata perché alla fine sì Desiree in qualche modo risolve questo suo malanno in cui vive diciamo si risolve il fratello si riscatta ma alla fine la si vede che si accascia cioè non è come dire non pare soddisfatta si sorride alla battuta del fratello che ha preso il treno ma poi si appoggia ed è come se la sua cioè come se avesse preso troppi colpi cioè non è un respiro di sollievo è un respiro proprio da ferita da pugnale cioè da crepacuore non so se mi sono spiegato non è non sembra che si rialzi dopo sembra che il colpo sia stato troppo forte un inciampo troppo grande sì questo questo è vero però nello stesso tempo ripensando al film io non l'ho rivisto questa sera credo anche lì no che per un personaggio che ha quel destino nel film ma anche abbandonando il cinema pensando a ognuno di noi quando ci sono quei momenti di stanchezza la fatica di vivere chiamiamola così o la stanchezza del di chi ha dovuto superare così tante prove per cui c'è quella specie di smarrimento mi viene in mente uno smarrimento completamente diverso non c'entra letteralmente nulla però uno dei finali che adoro di più della storia del cinema è il finale del laureato quando finalmente Dustin Hoffman arriva in chiesa si sta per sposare la donna della sua vita o la persona che in quel momento sembra la donna della sua vita quindi fa di tutto forse vi ricordate che comincia a battere contro le cose non sentiamo vediamo solo le bocche che si muovono dei genitori che capiscono che sta infrangendo una regola e anche Desiree infrange una regola perché poi ammettere che uno si deve allontanare dai propri genitori che è una cosa sana quando i genitori devono essere lasciati alla loro vita e uno deve trovare la propria quindi loro finalmente riescono lei fugge cominciano a correre salgono su un autobus lui è vestito come sarà poi vestito sempre da maratoneta non fighi ma da molti anni dopo col giubbino le scarpe a ginassi è arrivato in chiesa di corsa lei vestita da sposa si siedono in fondo all'autobus ed è stupenda quell'immagine che dovrebbe essere l'immagine della felicità finalmente lui e lei si trovano suonano le fanfare e tutto il resto c'è all'inizio un piccolo sorriso e poi c'è quella sorta di smarrimento per dire ora cosa accadrà e quello che mi piace che è quel finale film di Mike Nichols grandissimo scrittore di cinema e regista che è proprio tu hai compiuto un'impresa che non è l'impresa della letteratura epica e non hai quasi più energia quindi mi piace pensare non so se sia vero quindi probabilmente hai ragione tu o hai ragione lei o ho torto io o il contrario o non abbiamo torto nessuno dei due e lì Desiree non ha più forze perché in quel pezzo della sua vita cinematografica ha fatto uno sforzo enorme ci piace pensare almeno a me piace pensare che poi lei si alzerà da quella panchina o quello che è sul binario e si renderà conto e anche la paura finalmente sono libera che significa non avere non so bene per quanto perché è un film avere quei condizionamenti non ho più quel compagno che non andava bene ho messo in sicurezza il mio fratello non so più quella famiglia e in quel momento non ce la faccio più almeno io la leggo la leggo così associandola a quell'altro finale di un film che non c'entra nulla che racconta un'altra storia naturalmente c'era una domanda qui in prima fila per chi ha il microfono sì scusa volevo dire una cosa scusami perché lì non vi vedo proprio e quindi non è solo che essendo accanto a lui volevo a questo punto aggiungere questa cosa che avevo pensato cioè perché a me il film è piaciuto proprio perché la felicità non è ostentata non è cioè è come la catarsi quando una persona guarda un film dove che si chiama felicità però parla di tristezza e dolori e problemi tu senti ti senti vicino a quei personaggi perché appunto la felicità non è essere contenti e felici perché sì ma è per il caso della protagonista è sapere che tuo fratello non si vuole più suicidare sapere che il tuo o come diceva qualcuno laggiù potersi permettere di pagare la spesa per il tuo fratello che sta male ok che sei pieni di debiti perché la vita è così sei pieno di debiti però c'è quel momento in cui non sei più triste e ti senti libero e senti che puoi che puoi quindi cioè questa cosa è buona secondo me in un film mostrare il dolore e far capire che insomma è questa la vita non è non è felicità dove uno si chiede dove arriva la felicità finalmente in questo film anche io me lo chiedevo magari finalmente al fine film la protagonista sorride sinceramente questo sorriso non arriva però insomma è stata scelta del regista raccontarcelo in questo modo e lo capisco perché appunto la felicità non è per forza sorridere no certo soprattutto uno quando è consapevole di non essere prigioniero pensate ne avrete visti decine film in cui ci sono dei prigionieri che escono dal carcere e quasi nessuno fa no no per cui c'è sempre appunto c'è questa specie di di basculamento del del corpo quella sorta di indecisione in cui uno dice è ora è quello che si chiede alla coppia del laureato poi gli esempi potrebbero essere un miliardo forse arriva il microfono no mi dispiace il canetto non può intervenire non siamo attrezzati per tradurlo prego mentre i due personaggi principali del film sia Desiree Ramazzotti e Bruno Rubini mi sono sembrati due bei personaggi centrati che in qualche modo insomma a loro modo si amano si usano hanno le loro contraddizioni e reazionalità dalla loro doppia vita il personaggio dei genitori mi è sembrato un po' eccessivo quasi macchiettistico ossia nella loro abiezione si è andati un po' oltre nel senso dopo le prime scene in cui mettono la figlia in mano i carattari si era capito dopo questo continuare a ecco questa cosa nel film secondo me l'ho trovata un po' il punto debole un po' ripetitiva diciamo lei sì abbiamo capito fascistone ignorante tutto insomma poi una madre io penso che dopo chi ha dato le pillole fagli anche la puntura ecco adesso vabbè ci sono anche le madri matte folli però mi è sembrato ecco lì forse un po' più di complessità nei genitori avrebbe forse dato ancora qualcosa dato più forza al film no no certo questo è più che accettabile c'è un braccio laggiù vedo non so se lo vedi anche tu ecco poi tra un po' chiudiamo perché domani sera voi avete un altro film vi vogliamo tutti naturalmente è la signora al centro mi sembra eccomi ecco ce l'ha prego sì scusate io ritorno sull'argomento felicità perché alla fine è il titolo del film quindi credo sia anche la questione centrale allora quello che a me personalmente è lasciato un po' confusa è quando ci all'inizio abbiamo detto nella presentazione ci avete detto è un film che parla di salute mentale quando il film inizia a 5 minuti neanche nel film si è convinti che la persona che abbia problemi di salute mentale effettivamente Desiree poi c'è subito il plot twist iniziale che in realtà no è il fratello che effettivamente ha questo ha un disturbo bipolare se non sbaglio no e quindi la storia poi si struttura attorno a Desiree che cerca di in qualche modo salvare il fratello da una dinamica familiare che l'avrebbe portato sicuramente a non migliorare quindi per venire alla mia è più un'osservazione che una domanda in realtà e quindi in questa ricerca della felicità alla fine la felicità che si realizza mi sembra più la felicità del fratello che della protagonista stessa a me ha fatto un po' pensare a mine vaganti faccio se posso fare uno spoiler però penso che ormai l'abbiamo visto cioè questa dinamica del fratello che per salvare tra virgolette la famiglia già distrutta dal problema che è causato dall'altro fratello adesso non sto troppo a scendere nei dettagli diciamo interior sì non porta avanti i suoi propri problemi come posso dire la famiglia sta già soffrendo per mio fratello non sarò io a mettere avanti il fatto che anch'io ho un lavoro instabile una relazione che non funziona gli strozzini una storia di abusi alle spalle di cui non ho mai parlato quindi tutto questo viene fuori nel film ma non si risolve quindi alla fine ecco quello che dicevo appunto la confusione è causata dal fatto che vediamo il fratello di Desiree realizzare la sua felicità ma abbiamo quasi l'impressione che in quel momento in realtà dovrebbe iniziare il film cioè con la ricerca della felicità di Desiree perché stiamo parlando comunque di una storia scritta diretta da donne quindi ci aspetteremmo una storia di ricerca della felicità femminile invece secondo me diciamo forse quello che ho io personalmente apprezzato di meno è che invece abbiamo proprio un po' una reiterazione dell'idea che la felicità femminile è fare prima la felicità degli altri poi se avanza tempo facciamo anche la felicità nostra questa è una domanda meravigliosa alla quale posso rispondere soltanto ovviamente alla Ramazzotti con le sue coautrici meno male che l'hanno scritto loro perché se l'avessero scritto degli uomini la tua obiezione sarebbe più che legittima in cui c'è l'idea del sacrificio femminile per la felicità degli altri mi piace pensare che mentre da una parte c'è una patologia evidente l'infelicità chiamiamola così di Desiree è un'infelicità di fare i conti con un principio di realtà bastardo in cui lei si trova a vivere io sono abbastanza convinto come dicevo prima che poi alla fine lei da questa benedetta stazione uscirà un po' rinfrancata magari si sarà un attimo anche riposata però a volte accade che la propria felicità o la propria libertà passi per la libertà o la felicità di qualcun altro ma non perché siamo in secondo ordine perché qualcuno banalmente magari è messo peggio di noi insomma alla fine l'idea che il film comunica credo che sia l'imperfezione assoluta della felicità la felicità perfetta credo che esista soltanto negli spot pubblicitari o nei romanzetti non so bene di che tipo la felicità è qualcosa di impalpabile di sfuggente sì tu hai ragione però sono tre donne che hanno pensato questa storia ci hanno lavorato a lungo adesso stanno prendendo appunti come raccontano per un altro per un altro film non hanno anticipato ancora assolutamente nulla però la tua obiezione è decisamente più che legittima e poi magari quando incontrerò una delle tre gli è giuro che glielo chiedo insomma questo è sicuro io direi che possiamo chiudere qui vi aspettiamo domani sera domani sera Ginevra Alcanz sarà con noi almeno ci lo auguriamo per ora è in piena salute quindi non dovrebbe esserci tonsilliti o altro anche lì vedrete tanti personaggi femminili in una Roma accecante con un cambiamento climatico già avvenuto e anche in quel film ci sono dei personaggi un po' alla ricerca di se stessi allora grazie e buonanotte grazie grazie grazie